La situazione dei ragazzi è grave, l'incidente è stato molto grave, purtroppo li ha presi in pieno, è capitato altre volte su quella tratta perché è un senso unico come sappiamo e per cui però c'è l'autobus che va in direzione contraria, quindi spesso guardano a destra che non arrivi nessuno e si buttano sulla strada e purtroppo li ha presi in pieno, non hanno fatto neanche tempo a frenare e non c'è stato niente da fare, è stato impossibile evitarli. L'autista andava molto lentamente, vero? La velocità che noi abbiamo stimato, anzi controllato, è sui 30-35 km all'ora, non è un'alta velocità, però quello è un punto pericoloso obiettivamente perché la gente non guarda, soprattutto i giovani tendono a non guardare a sinistra perché non si aspettano che vengano in mezzo da sinistra. Ora le indagini andranno avanti e si avverranno anche delle telecamere montate proprio sugli autobus? Sì, le telecamere sono presso l'autorità giudiziaria che le valuterà, le guarderà è tutto ripreso dal punto di vista dell'accertamento della verità, dei fatti, le cose saranno evidenti. Ci spiace moltissimo per i ragazzi, tutta l'azienda si stringe intorno ai familiari di questi due giovani. Preghiamo per loro, naturalmente un pensiero anche all'autista che è scioccato evidentemente per una cosa terribile. Nessun altro passeggero ha riportato danni? No, assolutamente no, proprio grazie alla bassissima velocità del mezzo per cui nessuno si è fatto male sull'autobus ma non c'è neanche stato il tempo di fare la classica frenata perché è stato molto improvviso. Grazie a tutti.